Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andremo a settare una delle armi che è ritornata a meta su Warzone. Assurdo ma vero, ma il Bruen. Quanti ricordi. Allora, cominciamo dalla volata e andiamo a mettere l'ultima, ovvero il soppressor monolitico. Come canna andiamo a mettere invece la Summit, quindi la seconda da 26,8. Poi andiamo a mettere il laser tattico. Come ottica andiamo a mettere il 3x. Come colpi, alla fine mettiamo i 60 colpi. Diciamo, il solito stagio del Bruen è che siamo tutti quanti abituati. A quanto pare è ritornato di moda, quindi volevo, diciamo, riportarvi un po' indietro nel tempo. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Lasciate un like se vi va. Vi lascio in descrizione tutta la playlist con le varie armi meta del momento e quant'altro. Grazie a tutti. Alla prossima.